Eccoci all'appuntamento per le previsioni del fine settimana sul Friuli Venezia Giulia dopo una giornata di venerdì caratterizzata da temporali dovuti a una depressione che è passata sulla regione e che però nel fine settimana si sposterà sui Balcani da cui sulla nostra regione un afflusso per sabato di correnti più fresche da nord nord est che daranno maggior stabilità anche se l'aria fredda presente in quota porterà ancora qualche rovescio a qualche temporale per cui sabato mattina ha bel tempo sotto la regione con atmosfera piuttosto fresca poi in giornata riscaldamento colazione del sole che porterà la formazione di cumuli in montagna e qualche rovescio sulla fascia alpina e qualche temporale nel pomeriggio su quella prealpina è possibile che qualche rovescio e qualche temporale interesse anche qualche zona di pianura le temperature massime in pianura saranno intorno ai 30 gradi per quanto riguarda domenica maggior stabilità comincia ad affluire in quota aria leggermente più calda ma anche un po più umida da cui un cielo poco nuvoloso o al limite variabile sulle zone di montagna nel pomeriggio ma più stabile temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura 28 sulla costa con venti di brezza anche lunedì avremo inizialmente tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso variabilità nel corso della giornata con qualche temporale dal pomeriggio sulle zone alpine comincerà a farsi risentire l'afa per quanto riguarda le zone pianeggianti dall'osservatorio metodo regionale dell'arpa un saluto da marcellino salvador